Festività natalizie alle porte anche in provincia di Sernia intensificati i controlli della polizia su tutto il territorio, le priorità del questore Vincenzo Macri, prevenire reati e garantire sicurezza nella circolazione stradale. I servizi che noi tradizionalmente svolgiamo nell'arco delle 24 ore saranno potenziati sia attraverso specifiche pattuglie di poliziotti sernini, carabinieri sernini e finanzieri sernini, sia attraverso il ricorso a reparti di rinforzo che sono specializzati nei servizi di controllo del territorio. Un aspetto particolare al quale quest'anno si darà la massima attenzione perché è una indicazione di una direttiva che previene dal Ministero, dal Ministro tramite il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed è stata analizzata anche diciamo in sede di Prefettura e quindi con il coordinamento assicurato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Sernia è l'aspetto relativo anche alla sicurezza della circolazione quindi non solo un aspetto di prevenzione dei reati ma anche un aspetto di sicurezza negli spostamenti. Il questore elogia il grande spirito di collaborazione tra cittadini e polizia e invita a segnalare ogni movimento sospetto e per chi parte in vacanza i consigli per evitare i furti in casa. Per tutti coloro che dovessero allontanarsi temporaneamente dalle loro abitazioni mi raccomando che ci sia una grande attenzione nel garantire nel momento in cui si lascia l'abitazione tutti quegli accorgimenti che rendono l'abitazione più sicura quindi evitare di condividere vacanze su Facebook accertarsi che tutti i punti di accesso all'abitazione siano stati chiusi nel modo migliore possibile e soprattutto per chi rimane se notate qualcosa di anomalo segnalatelo perché noi interverremo.